Presidente, io rilevo che ogni volta che trattiamo un punto qualunque del regolamento e gli emendamenti sembra tornare questa discussione sul fatto che con questo regolamento ci sia una forma di limitazione di accesso dei consiglieri, ci sia una forma di limitazione di accesso alla cittadinanza. Io onestamente non riesco a vederla su nessun punto di questo regolamento, anzi all'opposto vedo invece un rafforzamento di quegli strumenti, un riordino degli strumenti di accesso che tra l'altro come sappiamo è un regolamento attuativo e che di fatto si trova nella gerarchia delle fonti comunque al di sotto di quello che è previsto dalla legge, quindi anche a livello di cause di esclusioni, di rigetti, di rifiuti. Insomma la legge già chiarisce quelle che sono le possibilità che l'amministrazione ha, altrimenti poi si vedrebbe subire un contenzioso. Quindi da questo punto di vista per noi questo emendamento voteremo no. Grazie.